Ancora fiamme all'azienda Terraverde di Città Sant'Angelo in Contrada, Piano di Sacco, dove vengono smaltiti rifiuti ospedalieri non pericolosi regionali ed extra-regionali. Le fiamme sono divampate da un cumulo di rifiuti intorno alle 23 di ieri sera, ma sono state prontamente domate dai vigili del fuoco intervenuti con quattro mezzi da Pescara e Montesilvano. Ancora da quantificare i danni alla matrice dell'incendio, il terzo alla Terraverde. Soltanto qualche giorno fa le fiamme partirono dalla fermentazione di alcune coballe depositate nel piazzale esterno della ditta. Prima ancora era accaduto nel 2011. L'azienda di smaltimento dei rifiuti è da tempo al centro del dibattito politico angolano. Il comune ha più volte espresso la propria contrarietà all'impianto di Piano di Sacco, dove presto potrebbe entrare in funzione anche l'inceneritore. Matteo Berazzetti, sindaco di Città Sant'Angelo. Dopo questo ennesimo incendio all'azienda Terraverde, cosa si profila all'orizzonte, sapendo anche che il comune è sempre stato contrario a questo impianto? Sì, lo eravamo quando si sono riavviate le procedure di riattivazione dell'autorizzazione alla società, così come abbiamo portato all'interno del via della regione il nostro parere negativo a rinnovare questa autorizzazione. E adesso che ci sono stati questi due eventi, in una settimana stessa, decideremo sicuramente nelle prossime ore di avvisare tutte le autorità competenti che si possa fare luce su questi due eventi, proprio a fronte di quel 2011 che per Città Sant'Angelo è stata nefasta e che non vogliamo sicuramente ripetere. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco è stato scongiurato il peggio. Ci sono rischi per l'aria, per i cittadini? Questa notte sono sentito con il comandante dei vigili del fuoco che è intervenuto in loco. Stiamo aspettando i risultati che l'Arta ci dà. È normale che quello che è avvenuto è un evento che in una settimana si è ripetuto due volte e ci preoccupa fortemente, soprattutto a fronte del fatto che lo stesso comandante, quando è entrato all'interno della struttura, ha descritto la struttura stracolma con grosse difficoltà di poter intervenire all'interno. Intanto va avanti anche l'iter per l'inceneritore? Sì, per quanto riguarda l'autorizzazione dell'inceneritore, anche lì noi abbiamo dato forti criticità proprio all'autorizzazione. Uno per la tecnologia, è un impianto che è stato autorizzato nel 2010 e che viene ripresentato oggi. Le tecnologie sono andate avanti, non rispettano naturalmente le nuove normative, così come abbiamo in una relazione molto importante presentato al Via e mi auguro che la Regione in questo momento, soprattutto dopo questi due eventi, possa prendere la giusta decisione di assolutamente sospendere la situazione e di vedere un attimino quali sono i livelli di sicurezza di questa azienda.